Io direi che, vista l'ora, l'ultima riflessione da condividere è il volume di cui abbiamo dato menzione qualche istante fa, a cura di Fabio Ciotti, uscito per Carocci molto di recente, si chiama Digital Humanities, Metodi, Strumenti e Saperi. Non so se Fabio vuoi spendere due parole, magari mostrando l'indice, ad esempio. Sì, in realtà, come dire, adesso faccio la parts costruence, perché come nasce questo volume? Intanto nasce perché l'Ido è un membro della relazione, molti anni fa, a me mi chiede, ma perché non fate una cosa simile al companion di cui parlavo prima? Per l'esperienza, diciamo, dell'informatica comunistica italiana, visto che tu sei uno di quelli che da più anni sta su piazza, conosci un po' tutti, metti insieme quelli che ritieni siano i più competenti in vari ambiti e poi tiri fuori questa cosa. Ho detto, ma guarda, secondo me non è un progetto impossibile, ci provo. In realtà, c'avevo ragione io, nel senso, ci sono puliti cinque anni per tirare fuori questo libro. Siamo partiti in due, eravamo io e Francesco, e Francesco è venuto giustamente, si è stufato, va al diavolo. Per colpa mia il 90%, un 10% anche per colpa di parte degli autori che ovviamente ritagdavano, per cui, diciamo, assumo il 90% delle responsabilità negative dei ritardi. Però, diciamo, il progetto, in effetti, quando è nato, un po' nella mia mente, poi ne abbiamo discusso, e in qualche modo rispondeva a quello che diceva Francesca, per cui, ecco, di adesso faccio la Pasqua. Io ho detto, diciamo, oggi forse sono meno sicuro, però il mio tentativo e il nostro tentativo nel fare questo progetto di libro era proprio quello, di identificare, vuol dire, qual è un nucleo possibile dell'informatico-umanistica come disciplina autonoma, e io lo dico anche nell'introduzione in modo esplicito, cioè identifico un insieme di aspetti che si possono identificare come quelli, diciamo, pertinenti a una possibile disciplina, e, invece, la sua declinazione nei saperi. E il libro ha questa struttura, fondamentalmente. Uso una metafora che ho usato ormai molte volte, quella della galassia, no? Nella galassia non c'è un confine preciso. Tu ci stai dentro, non vedi bene se appartieni a un braccio o a un altro. Sì, ci si può, ma un astronomo professionista può sapere, ma sennò è difficile per noi vederci dove stiamo. Guardiamo la Via Latte, ma... Ma da fuori, invece, è evidente. C'è un nucleo, ci sono i vari bracci di spirale, e c'è anche il bordo esterno, dove ci stanno le specie pericolose, no? Tipo Star Wars, da cui provengono le minacce, che è il luogo in cui si entra in contatto con l'altro, l'alterità. E questa metafora l'ho utilizzata per indicare quello che, a mio parere, è poi l'assolutura del libro, cioè avere un nucleo che è un nucleo senza confini netti, no? Per cui in una galassia non è che c'è questa stella appartiene al nucleo, questa stella appartiene al braccio spirale. Non c'è questa possibilità fisica e lo stesso vale per i nostri saperi. I nostri saperi sono le cose che prima citavo, sono esattamente le cose che io indico come quelle facente parte del nucleo, del core, no? Di quello che io identico il core dice dagli umani, che preferirei chiamare informatica umanistica perché funziona meglio, anche perché informatica in Italia e nel mondo, ma non solo, ma in Italia ha questa componente strumentalista che è legata all'oggetto fisico, che in realtà nell'informatica teorica c'entra assai poco, c'entra, perché non è da poco avere macchine che poi fanno effettivamente le cose, però la nostra storia comincia da di Tornani che giustamente diceva guardate che l'informatica è una scienza teorica prima di essere una scienza ingegneristica e questo nucleo insomma identifica esattamente i concetti, i modelli, i metodi. Come dire, perché il metodo è così, di per sé anche molto astratto, ma quando è effettivo ed efficace un metodo trattando un dato di tipo umanistico, non ogni metodo è adeguato e dunque la metodologia è anche una scienza seria e ovviamente alcune componenti che sono anche diciamo di contenuto, cioè alcune tecniche di accesso alla modellizzazione, le tecnologie diciamo semanticamente orientate che hanno rappresentato il core business di molti di noi per molti anni, oggi c'è la novità dei modelli linguistici e in generale i modelli generativi che rappresentano la novità su cui bisogna buttare un occhio perché potrebbero cambiare fondamentalmente, oltre che la vita, la società, ma anche il paradigma scientifico, perché ci fanno capire come in effetti le regole, il formalismo, qualche cosa che potrebbero starci alla base della realtà ma emergere eventualmente solo dopo. Insomma, questo è qua il core. Il libro in qualche modo cerca di dare una rappresentazione di questo core, come vedete la prima parte ha dei lavori che riguardano un bellissimo capitolo di tipo teorico sul concetto di modello e modellizzazione, scritto da Arianna Ciull e Cristina Marras. Uno dei metodi, ecco io ho detto prima XML, forse sono vent'anni che lo utilizziamo, lo studiamo, lo insegniamo e forse durerà altri dieci anni, forse no, forse sì, io ho sempre ritenuto che se ne funziona perché è facile ed è efficace, però non è detto che questo varrà in eterno, insomma. Però di fatto oggi l'80% della scholarship digitale, testuale, utilizza XML, anche non quella solo testuale, perché anche i metadati spesso usano sistemi di rappresentazione. Dunque c'è un capitolo su questa cosa, l'analisi del testo, vista come metodologia indipendente dalla sua applicazione in ambito letterario. Io sono un teorico della letteratura, vengo dalla letteratura, mi interessa più quello, ma ovviamente si analizzano i testi in tutti gli ambiti disciplinari, sia in storiografia, sia in archeologia, il testo è componente centrale, primaria o secondaria di gran parte dei civili umanistiche, ma anche in sociologia, in comunicazione, per cui i metodi che si utilizzano per fare analisi del testo, clustering, attribuzione, vengono utilizzati in tribunale per decidere se qualcuno è colpiolo di un omicidio perché viene riconosciuta la paternità di una confessione o di qualche altra testimonianza scritta. Per cui quei metodi sono indipendenti dal fatto che poi noi ci attribuiamo agli iscritti di Elena Ferrante al marito, diciamo, a Sarnone, il marito e la moglie, come si chiama, non ci ricordiamo. Ma appunto, anche qui, visto come metodo, anche qui vedi la filologia digitale con metodo, e sono d'accordo con Francesca, cioè, trattare criticamente una fonte testuale, sapendo riconoscere eventualmente in presenza di più attesivanze di quella fonte, come possibilmente ricostruire una possibile fonte primaria, non voglio parlare di archetica o di originale, ma diciamo una fonte primaria da cui troviamo le altre, è una cosa che è importante e peraltro alcuni dei metodi sono gli stessi che si usano in biologia, per cui paradossalmente anche qui c'è un aspetto teorico, metodologico, astratto che ci mette in contatto non solo con le discipline tecnico-informatiche e matematiche, perché qua veramente, quello che ho capito negli ultimi tre anni è che, forse più che l'informatica, oggi abbiamo riportato il rapporto con la matematica nei nostri corsi, cioè avere la conoscenza di base matematiche per poter capire quello che fanno oggi gli informatici di punta è fondamentale, almeno per capirlo vagamente. Ma che hanno in comune anche con la biologia, per cui tutta la teoria dei grafi, il modo in cui si possono ricostruire percorsi di derivazione, scegliendo un albero migliore, tutte quante questi aspetti sono, e le biblioteche digitali, ovviamente, sono i contenuti, le infrastrutture, sulle infrastrutture anche qui ho maturato una posizione molto grida perché ci ho stato dentro per anni, però insomma è evidente che le infrastrutture sono importanti, il problema è che chi le fa spesso non si rende conto di quanto sono importanti, per cui le tratta come cosa loro, una piccola giocattolina con cui fare più o meno carriera, a livello sia nazionale sia internazionale e poi il resto della comunità scientifica non ne sa nulla, mentre siccome sono importanti è fondamentale che le comunità scientifiche ne sappiano e vengano fatte in modo opportuno. E poi il problema della cultura aperta, perché anche questo è ovvio che è esterno ai saperi, però il modo in cui noi comunichiamo e facciamo la scienza è anche fondamentale. E poi i saperi, e qua avete i saperi sono quelli che abbiamo visto, la storia, la geografia, la musicologia, l'archeologia e le loro, la storia dell'arte, eccetera, eccetera, e le loro decreazioni digitali. E in questo caso appunto i vari sabbi cercano di dare un po' un quadro, uno stato dell'arte, ovviamente lo storia dell'arte in questo ambito può sempre essere riformato. Ma quando io chiesi agli autori di fare questo lavoro cinque anni fa, gli dissi non mettete, non puntate al cattineggio. Voi in alcuni casi il cattineggio è, in alcuni settori, il cattineggio è comunque talvolta trasformativo. Ma non sempre il cattineggio è così. Ovviamente oggi, alla luce di quello che è avvenuto negli ultimi sei mesi, cioè da quando è uscito il GPT 3.5 in poi, gran parte di questa roba probabilmente andrebbe riscritta e ripensata, perché cambia il paradigma, almeno per me. Però questo è un caso. La storia ha voluto che forse la terza grande rivoluzione tecnologica dell'umanità, ma dopo la stampa e in parte l'informatica delle origini avveniva nel 2023. E vabbè, ok, purtroppo questo non lo potevamo prevedere. Però altre cose rimangono e alcuni fondamenti sono ancora utili. Per cui anche qui c'è l'antichità, il capitolo bellissimo di Monica Berti sull'uso nell'ambito dei classici, insomma, la filosofia. Anche qui è un rapporto molto complicato, perché che cos'è la filosofia digitale? Infatti Cristina ha fatto un buon capitolo di riflessione. Mancano un sacco di cose, mi è stato anche scritto, colleghi, ma perché non mi hai chiamato per mettere un capitolo sulla X digitale? Più di uno mi ha scritto. È ovvio, ci sono alcuni. Io quello che ho fatto è cercare, quando abbiamo fatto progettato insieme il libro con Francesca, di valorizzare una lezione, diciamo, quello che era forte in Italia, perché il volume intende essere un volume che parte dall'occhio italiano. Ovviamente non, diciamo, è un fenomeno mondiale, globale, declinato in modo articolato nelle varie nazioni, ma insomma con una sua forte unità, per cui non è possibile pensare di isolare un sapere digitale italiano. Però ci sono delle tradizioni storiche. Prima Maurizio citava le più remote, forse se ne vorrebbe raggiungere delle altre, perché tutta la parte della storia quantitativa e tutta la storia dell'History and Computing è una storia che è in corsa parallela sin dagli anni Sessanta, anche là, per cui... Però, insomma, c'è una storia in Italia. Ci sono dei nomi, Dino, che qua ricordavamo, è uno di quelli. Tito Orlandi, ancora prima, è il fondatore, no? Busa, anche se Busa l'ha usato forse un po' però, insomma, è il fondatore universale, insomma. C'è una storia, no? Per cui questa storia ho cercato anche di rispecchiare. Sì, allora, sì, 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 con questo chiudo. Il libro è un libro abbastanza grosso, sono 400 pagine, ogni saggio è circa 30 pagine, ci sono 50 pagine di bibliografia, che io ho anche aggiornato, poi, negli ultimi versioni, insomma, per cui è un libro che cerca di porre un po' un quadro della situazione. E secondo me serve anche, appunto, a dare questa idea della unità nella diversità e della diversità nell'unità, che era un po' lo scopo di questo progetto e che poi è l'oggetto di cui abbiamo parlato fino adesso. Per cui spero che venga usato, soprattutto per capire come andare oltre rispetto a ciò che è stato fatto, perché qui è un racconto di ciò che è stato fatto, di ciò che in parte si può fare, però credo che, appunto, ci sono molte cose che possono essere fatte ancora nelle discipline singole, anzi, a maggior ragione in Italia nelle discipline singole, dove forse questo è l'aspetto più carente paradossalmente, cioè ci sono molti bravissimi digital humanists, che voglia dire, ma pochissimi filologi digitali che hanno fatto i digitali serie, pochissimi ancora meno critici letterari o storici, per cui ecco, spero che da questo punto di vista il libro possa servire a stimolare chi fa ricerca nei settori a fare ricerca di qualità, perché, ripeto, è questa l'unica cosa che io vedo veramente. Noi possiamo anche fare dei lotti, le faremo, sono vent'anni, vent'anni per le fare, però dobbiamo partire dall'avere ogni quantità di scolaci, di prodotti, di qualità nelle discipline, perché altrimenti non possiamo rivendicare, su principi astratti, un bel libro. E questo libro cerca di far vedere come è possibile, sulla base dei risultati piccoli, andare avanti. Grazie, e grazie a tutti. Grazie.